Cari amici di Tel Aviv, siamo qui al congresso della divisione inter-europea e qui con noi il fratello? Jean-Claude Nocandy. Jean-Claude Nocandy che viene dalla Francia. Il fratello viene dalla Francia e ci presenterà oggi. Che è che tu presenti? Allora, ho alcuni libri per la famiglia, abbiamo alcuni libri per la famiglia, abbiamo alcuni libri per la famiglia. Abbiamo anche diverse Bibbie. Abbiamo qualcosa sulla salute. E abbiamo i libri sulla sorella White. And where is your ministry located? The publishing house is near Paris. La casa dell'editrice si trova proprio vicino a Parigi. Near Damarille Lisse. Vicino a Damarille Lisse. Da quanto tempo hai lavorato in quest'area? How much time have you been working in that area? 1921. Sì, dal 1921. Quindi è una casa dell'editrice stabilita nel tempo. Tell us something about your materials, for example. Dicci qualcosa del tuo materiale che hai. Oh, here you have some books about health. Qui abbiamo dei libri sulla salute. Noi lavoriamo con l'editore Saffeliz. E poi abbiamo dei libri sulla vita e sulla salute. E poi da qui, da questa parte, se lo andiamo a vedere, abbiamo i libri teologici. Qui abbiamo le Bibbie in diversi formati. Abbiamo la Bibbia a caratteri grossi. Qui abbiamo la Bibbia semplice francese, con parole semplici. La concordanza della Bibbia, nella quale trovare le parole citate nei testi. Abbiamo molti libri per bambini, in questo caso come questi, che si intitolano Le avventure con Dio, e parla delle storie dei pionieri avventisti. In qualche modo racconta anche ai bambini questa storia. And you have also DVDs, I see. Tell us something about your multimedia material. Hai qualcosa anche riguardo ai DVD, al materiale multimediale? Raccontaci un po' qualcosa di questo. Abbiamo un DVD riguardo al sabato, il settimo giorno, viene chiamato, con Hal Book. Abbiamo alcuni DVD sulla vita di Gesù, DVD sulla archeologia. Altri DVD vari sulla storia di vita con Dio e delle relazioni con Dio. Qui abbiamo questo piccolo libro. Qui abbiamo i 28 punti dottrinali della Chiesa Adventista per bambini. Quindi li abbiamo appunto illustrati, con le fotografie. e due pagine per ogni punto dottrinale. Abbiamo questa serie in sei volumi, si chiama Scoprire la Bibbia, tutta disegnata. Abbiamo anche del materiale per i bambini da colorare. Questo libro è per attività manuale con i bambini. Attività pratiche, un po' di decoupage. E sono tutte indirizzate su temi biblici, per cui come costruirsi l'arca di Noè, come costruire un angelo con la carta, la stella di Davide. parla di varie cose, come i talenti, la moneta perduta, e tutte le cose che vengono citate nell'ambito biblico in modalità più infantile. Grazie per la tua presentazione e speriamo che molte persone possano essere in grado di poter godere i vostri libri e anche in Francia poter appunto utilizzarli affinché il Vangelo possa essere portato avanti anche lì. Saluto i nostri amici di Tenerife e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.